A differenza di altre sorgenti naturali o artificiali, il laser emette luce di frequenza definita e quindi di un unico colore. I fasci laser sono collimati e possono trasportare a grandi distanze una notevole energia o concentrarla su una superficie microscopica. Queste caratteristiche peculiari li rendono ormai indispensabili in moltissimi settori, dalle telecomunicazioni alla lavorazione dei metalli, dall'olografia alla lettura dei cd fino alla medicina. Ma qual è il segreto che rende così speciale questo tipo di luce? Si potrebbe dire che il laser sia un modo per estrarre luce dalla materia. A livello atomico, il passaggio di un elettrone da livelli energetici superiori, chiamati stati eccitati a quelli con energia più bassa, provoca la produzione di una particella di luce, un fotone. In tutti i materiali, però, gli elettroni occupano solitamente gli stati energetici più bassi e i fotoni emessi da salti elettronici spontanei sono pochi. L'idea alla base del laser, teorizzata da Einstein nel 1917, è di eccitare il numero maggiore possibile di atomi di un certo materiale utilizzando una fonte esterna di energia. Il decadimento di un primo elettrone produrrà un fotone che, a sua volta, stimolerà il decadimento di altri elettroni generando una vera e propria cascata di luce. Si produce, così, il fascio di luce estremamente collimato, caratteristico del laser, fatto di fotoni che hanno tutti l'energia corrispondente al salto fatto dagli elettroni. I diversi tessuti del corpo assorbono più efficacemente la luce ad alcune frequenze, mentre sono più trasparenti ad altre. Ad esempio, l'emoglobina o la melanina trattengono la luce visibile o ultravioletta, mentre i tessuti sottocutanei assorbono la radiazione infrarossa grazie alla presenza di acqua. Laser di frequenze diverse penetrano quindi in modo diverso nel nostro corpo. Sono però l'intensità e i tempi di esposizione alla luce laser a determinare in gran parte gli effetti che otteniamo. Con impulsi laser estremamente brevi, da microsecondi a femtosecondi, di media o alta intensità, si possono ad esempio polverizzare i calcoli renali, depilare la pelle, rimuovere piccoli trombi dai vasi sanguigni o curare i denti. Con un'esposizione più prolungata, ad esempio di qualche secondo e media intensità, i fotoni producono un riscaldamento del tessuto usato in fisioterapia e che può anche trasformare il laser in un bisturi ultrapreciso. In altri casi, invece, si sfrutta l'interazione della luce con agenti chimici localizzati solo in alcuni tessuti del corpo, ad esempio per distruggere cellule tumorali. L'invenzione del laser è stata condivisa e contesa da tre scienziati che incarnano personalità e modi di fare ricerca che non potrebbero essere più diversi. Il primo è Charles Towns, fisico della Columbia University di New York, che nel 1954 realizza un laser, un dispositivo per amplificare microonde usando il fenomeno dell'emissione stimolata, che non genera però luce visibile. Il secondo protagonista è uno studente di Towns, Gordon Glaud, che si considera uno spirito libero e indipendente e, sebbene sia uno scienziato di talento, a 37 anni non si è ancora laureato. Nel 1957, Glaud disegna il primo progetto di un laser e, tra l'altro, ne inventa il nome. Il brevetto del suo progetto, siglato con un amico notaio, non risulterà però valido. Colui che realizza effettivamente il primo laser è invece Theodore Mainman, sconosciuto scienziato californiano con un background di ingegneria, ostinato, indipendente e abituato a lavorare con mezzi poveri. Il suo laser è un oggetto semplicissimo, fatto di una piccola bacchetta di rubino ricoperta da uno strato di argento riflettente inserita in una lampada flash a spirale. Mainman lo accende per la prima volta nel suo laboratorio di Malibu, nel maggio del 1960. Nel 1964, però, il premio Nobel va solo a Towns. Glaud si consolerà con le royalties milionarie incassate per i sistemi laser che inventò in seguito, mentre Mainman solo molti anni dopo sarà riconosciuto come il vero inventore del laser. Grazie.